Un tempo, considerati dottori per eccellenza, oggi non se ne trovano quasi più, stiamo parlando dei camici bianchi di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, attraverso i quali poter accedere a tutti i servizi e prestazioni inclusi nei livelli essenziali di assistenza LEA. Uno studio condotto dalla Fondazione Gimbe, in base ai dati forniti dalla struttura interregionale sanitaria convenzionata riferita all'anno 2022, conferma una tendenza preoccupante già portata alla luce nei mesi scorsi dall'Agenas tra il 2023 e il 2026. Sono 504 i sanitari calabresi che hanno compiuto o compiranno 70 anni di età, raggiungendo così l'età massima per la pensione, vero e escluse. Considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero di borse di studio per gli anni 2020-2023, nel 2026 il numero dei medici di medicina generale diminuirà di 135 unità rispetto al 2022. In relazione al quadro anagrafico, nel 2022 l'89,4% dei medici di famiglia aveva oltre 27 anni di laurea, prima tra le regioni rispetto alla media nazionale che è del 75,3%.